ambasciatrice approfittiamo della sua gentilezza per qualche piccola battuta qualche piccola riflessione sulle elezioni americane che ormai sono prossime cosa succede se vince donald trump e cosa succede se vince kamala harris ma come mi è capitato di dire anche altre volte a parte il fatto che basta seguire questo dibattito pubblico americano per capire la crisi e la sconfitta dell'occidente di cui parla emmanuel todd questo nichilismo questa mancanza di moralità di valori di punti di riferimento che è veramente atroce infatti io con molta difficoltà devo confessare seguo il dibattito pubblico ma come mi è capitato di dire tante volte se trump naturalmente porta avanti una politica classista e soprattutto contraria alle libertà civili contro l'aborto se poi in fondo si fa interprete di un certo conservatorismo culturale che vorrebbe rilegare la donna sempre soltanto in certe immagini in certi ruoli però trump dal punto di vista della politica internazionale è secondo me migliore in israele perché migliore in israele tappeto rosso tappeto rosso ad israele per netaniao però nello stesso tempo ci risparmierà i buoni sentimenti e quindi l'america apparirà per quello che è uno stato complice un impero con i suoi vassalli complice di un genocidio in corso diciamo la verità questa è la verità e non può essere negata perché alle nazioni unite gli stati uniti con israele con l'aiuto dei suoi vassalli votano contro il cessate il fuoco duraturo quindi per piacere mi rivolgo ai progressisti a tutte quelle persone che credono votando per i democratici di votare per la giustizia e la soluzione dei due stati rendetevi conto che ogni bambino che muore deve ringraziare voi perché siamo noi che votiamo contro il cessate il fuoco permanente a gaza ed è l'america che con i suoi fondi e le sue i suoi rifornimenti militari riesce a riesce a permette a israele questa azione poi la differenza però ci sarà in ucraina credo che trump non abbia gli interessi di biden in ucraina e quindi sarà portato a una mediazione mediazione che non è così semplice perché non è semplice ritornare al 22 ma al marzo del 2022 democratici la vicepresidente arris non fa altro che mantenere la politica dei neoconservatori americani che nei democratici oggi trovano la loro migliore espressione quindi aspettiamoci altre la continuazione delle guerre non solo in israele sebbene piangeranno molto sulla morte dei bambini ma anche in ucraina e fondamentalmente io credo che i due partiti democratici e repubblicani siano un'espressione articolata delle stesse oligarchie finanziarie dell'energia e delle armi che ci hanno portato a questo stato di cose quanto peserà la candidatura di una donna a presidente degli Stati Uniti a livello elettorale secondo lei avrà un peso nulla nulla non peserà nulla io sono guardi contrario a questo femminismo le persone come la Thatcher come la Ursula von der Leyen ma cosa c'è non è l'espressione più becera della nostra politica internazionale che siano donne o uomini ma cosa importa ma cosa importa ambasciatrice l'Europa forte per chi farà il tifo l'Europa forte esatto l'Europa potente i potenti europei quindi le lobby europee per chi farà l'Europa non mi sembra molto forte e con l'Europa schiacciata completamente dagli Stati Uniti e le lobby europee naturalmente continueranno quello che hanno fatto fino ad oggi Scholz abbasserà la testa di fronte al sabotaggio dei gasdotti e di fronte ad ad una politica estera americana che ha ridotto la Germania in recessione quindi i poteri forti dell'Europa come amati da Draghi da Renzi dai progressisti come dalla destra continueranno questa politica bellicistica e nazionalistica finché l'America non dirà basta quindi diciamo tenderanno ad appoggiare Kamala Harris probabilmente ah certo certo perché in fondo Trump è molto più scomodo per le oligarchie che si esprimono con l'Europa e con i democratici però non illudiamoci con Trump non cambierà molto e Trump è il volto più rozzo più brutale dell'America eh ciao 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 Grazie per la visione!